Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze fino al 14 settembre per lavori scambio di carreggiata tra Poggi Bonsi e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena con conseguente chiusura dello svincolo di Colle di Valdelsa Nord. Sempre verso Siena, sempre per lavori scambio di carreggiata anche tra Colle di Valdelsa Sud e Monte Riggioni. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia riduzione di carreggiata per lavori 3 km 343,800 e 343,900 tra Pisa Nord e la variante di Via Reggio in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!